I compleanni più famosi del mondo, lasciami il piace, iscriviti e scrivimi nei commenti quando fai il compleanno, magari porto fortuna Al numero 12 abbiamo l'8 luglio, al numero 11 abbiamo il 18 settembre, al numero 10 abbiamo il 10 settembre, al numero 9 abbiamo il 15 settembre Al numero 8 abbiamo il 21 settembre, tutti a settembre sono nati, boh Al numero 7 abbiamo il 7 luglio, al numero 6 abbiamo il 22 settembre, al numero 5 abbiamo il 24 settembre, al numero 4 abbiamo il 17 settembre, raga tutti a settembre, incredibile Al numero 3 abbiamo il 23 settembre, al numero 2 abbiamo il 9 settembre e il giorno di compleanno più famoso del mondo è il 16 settembre Si ragazzi il mese di settembre è il mese più famoso e il comune